In tutta Italia ce ne sono solo 25. In Abruzzo, quella in dotazione presso il reparto di neurochirurgia del Santo Spirito di Pescara, è praticamente l'unica. Si tratta di O-ARM, un'apparecchiatura radiologica collegata a un sistema di neuronavigazione che facilita le operazioni di chirurgia vertebrale, limitando l'esposizione del paziente alle radiazioni. Costata circa 450 mila euro, servirà a curare patologie sia traumatiche che degenerative a carico della colonna vertebrale, rendendo Pescara un punto di eccellenza del settore, come spiegato dal dottor Donato Carlo Zotta, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia dell'ASL di Pescara. Un'apparecchiatura radiologica di nuova generazione. È una tecnologia comunque che già abbiamo da anni. È una modalità radiologica che ci permette di eseguire degli interventi neurochirurgici, soprattutto sulla colonna vertebrale, in modalità neuronavigata. L'esempio più calzante è quello del navigatore che noi usiamo in macchina. Prima eravamo costretti a fermarci spesso, a chiedere informazioni a qualcuno su dove fosse una strada o dove fosse un determinato luogo. Con l'avvento del navigatore e dell'automobile procediamo direttamente con il suo consiglio. E questo è quello che è stato applicato alla tecnologia medica. Per gli interventi, soprattutto sulla colonna vertebrale, in cui è necessario impiantare delle protesi e quindi delle viti nei corpi vertebrali e delle barre, un tempo si usava la radiografia tradizionale che praticamente prevedeva l'esecuzione di più radiografie passo dopo passo. Si metteva la vite, si faceva la radiografia, si iniziava a calarla nel corpo vertebrale e se ne faceva un altro. Adesso con questo sistema, mandando l'acquisizione della colonna vertebrale a un'altra apparecchiatura che è il neuronavigatore, noi possiamo fare questa procedura di infissione delle viti in maniera completamente automatica, senza scattare ripetutamente raggi. Questo che significa? Per il paziente l'assunzione di raggi zero e anche da un punto di vista economico, diciamo, c'è un risparmio effettivo proprio su tutta la procedura. Operativa da oltre un mese, OARM è già stata impiegata per effettuare una dozzina di interventi, ma si prevede di arrivare a coprirne fino a 700 annui e di utilizzarla anche su altre fronti. Può essere utilizzata anche negli interventi sul cranio, sempre con lo stesso sistema, cioè navigare, non fare TAC, non fare particolari radiografie, ma praticamente immagazzinare tutti i dati del paziente, trasferirli a un computer e poi farli individuare da alcuni strumenti che sono ausiliati del neuronavigatore per procedere senza l'emissione di raggi.